E' appena terminata la prima parte del tour mondiale Violetta Live 2015, che ha visto Martina Stoessel e compagni impegnati ad esibirsi davanti ai fani italiani di tutta Europa. In questo momento, i ragazzi si stanno godendo un breve periodo di riposo, per poi ricominciare ad esibirsi dal vivo il 17 aprile, questa volta nella loro terra, in Sud America, con la prima data a Buenos Aires. Eppure alcune recenti dichiarazioni di Martina Stoessel fanno pensare che, in realtà, la decisione sul futuro di Violetta sia già stata presa. Martina Stoessel ha recentemente rilasciato un'intervista all'edizione argentina del settimanale Gente, in occasione del suo diciottesimo compleanno. Una delle ultime domande dell'intervista riguarda proprio la fine delle riprese di Violetta, ed in particolare la carriera di Martina dopo la fine della serie tv che l'ha resa famosa e che l'ha fatta diventare l'idolo di milioni di persone in tutto il mondo. «Dopo Violetta come proseguirà la tua carriera?» chiede il giornalista Martina. «Nel giro di qualche settimana avrò un incontro con una casa discografica americana per discutere della mia carriera da solista. Ci saranno grandi cambiamenti, continuatini, per quanto riguarda la musica, l'abbigliamento e il look in genere. Si tratta di una risposta che a quanto pare non lascia spazio a molte interpretazioni. Martina starebbe già guardando al futuro, quindi oltre Violetta, alla sua carriera da solista.